A TURNO o all'inizio? Scusate, io ho pescato sei Un saluto al mitico che ha pescato sei e al TURNO Giaggio, se faccio golem di lava, posso fare normal? Se ti chiami la base, sì Ok, spero che Nicopala abbia portato il shampoo e il phon oggi Perché non mi sono lavato i capelli io A dopo Ok, siamo qua al P.E.F. Championship 2023 a dicembre Non è dicembre, è novembre Nel fanside, Traviglio, patria dei G.G.D. Che cazzo è questo? Salve Bastardo, che cazzo c'è così qua? C'è un cazzo che è... Minuscoli, minuscoli Sant'olore salvo, mi prego C'è un problema Se continui a farmi un video io ti sviscero vivo Ti strappo la spina d'oxale Per pulirmi il culo Porco de merda, merito Ma cosa faccio contro Shifter? Shifter erone Shifter erone Sto meditando Tosta Tosta Vista subisse, aveva concesso Però io sono contento di come è stato andato al torneo No, il pisello non è il culo Sto in bocca Ha vinto Papini No dai devi vincere Ho vendicato Stefano Molto che a vendicare Marco Sindy Papini Stai allerta Pranzo dai campioni Ciao amici Ciao amici Io sono tre vinte, è un pareggio 3-1 Tre vinte una persa Uguale Dopo Papini No, no, hai perso contro? Papini Hai perso contro? Papini Ash Droll Vieni via Io devo vendicarli tutti Ma perderò anche io contro qualcuno Se vinco il dado mi fa 4 Vai cosa vuol dire? Samu quanto sono? 10-0 15-0 Ciao ragazzi come va? Quanto sei capito? E' il rap porco dio 2-2 Ah eeeh Ho perso tutte Cioè oh no Sì 2-2 2-2 ok Ciao Dopo tanto tempo abbiamo fatto uno TS Che era quello di Treviglio Siamo tutti emozionatissimi Abbiamo partecipato Orgogliosi Di sponsorizzare il team Insomma sto dicendo Ho partecipato io Marco che adesso sarà in A4 Poi Stefano E Bianca che sta facendo il video Che poi riporteremo Una su cosa profile La persona con le calorie Quindi non posso dire niente Quando farò la profile Vi farò il report Vivero Sono le 5 Il torneo è partito alle 11 Abbiamo fatto un sacco di turni Grazie Ciao E che dire ci vediamo all'ICS Ecco facciamo un pochino di pubblicità per l'ICS E saremo io Marco e Ste Vediamo un pochino come Ste quanto ho fatto? Non ho fatto bene Non ho fatto bene Non ho fatto E niente ragazzi adesso vi salutiamo E vi facciamo vedere il profile Mia e di Andre Sì 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 Sì